Buon martedì primo marzo. Primo marzo 1968 via Valle Giulia. Il ricordo va a quella rivolta delle generazioni dei figli verso le generazioni dei padri che si erano fatti protagonisti, loro malgrado in gran parte, della grande tragedia della prima metà del Novecento, le due guerre, che hanno rappresentato il culmine di un modello di sviluppo improntato alla distruzione, al controllo unilaterale, al forgiare le coscienze sulla base di un desiderio di predominio, di assolutizzazione della propria capacità creatrice, al punto da discriminare le persone in base all'appartenenza religiosa, inventarsi addirittura le razze che non esistono. Esiste l'Homo sapiens, esiste la specie umana, non esistono le razze umane. Il concetto di razza è un concetto che riguarda la tecnologia che forgia delle manipolazioni sulle specie che rappresentano il sistema vivente di questo pianeta, una parte del sistema vivente, perché gran parte del vivente è costituito dal mondo vegetale. Ebbene, quel primo marzo 68 che è stato immortalato con grande passione artistica e poetica dal cantante Paolo Pietrangeli, una canzone formidabile, carica di passione, di vitalità. Gli studenti scesero in piazza, espressero in sommo grado, pur nella loro giovinezza e la loro inesperienza, il desiderio di un mondo diverso da quello che stavano vivendo in quel momento. Eravamo alla soglia di un boom economico e successivamente di una crisi energetica. Le crisi e i rimbalzi economici si sarebbero succeduti nel corso dei decenni fino ad arrivare ai giorni nostri, a questa paura profonda che ci attraversa, che ci rende profondamente paranoici e ci concentriamo ancora una volta sulla semplice contingenza. Siamo alla coda probabilmente di una grande pandemia, ampiamente manipolata anche dai media, che ha generato contrapposizioni politiche, che ha annichilito ciò che era già annichilito, cioè la politica, la capacità gestionale. Ci siamo affidati alla tecnoscienza. Oggi gli scienziati addirittura temono a mio parere di perdere la ribalta mediatica che li ha resi importanti, famosi pur aver argomentato la crisi sanitaria in modo ampiamente contraddittorio, proponendoci costantemente soluzioni riduttive, non invitando a porre mano a una ristrutturazione radicale dello stesso sistema sanitario che dovrebbe proteggere e promuovere la nostra salute sulla base del valore del principio di bene comune. Tutto questo non è accaduto in questi due anni. Abbiamo soltanto visto degli esperti affermare, lo dice la scienza e i giornalisti a loro volta, lo dice la scienza, oggi la concentrazione mediatica è giustamente sulla guerra, ma attenzione perché anche in questo caso il rischio è quello di enfatizzare un evento, non coglierne i nessi attraverso i quali si è generato questo evento. La guerra in Ucraina è presente da molti anni, non solo oggi, ma nessuno ha voluto porre mano, tutti solidali, ma quando l'Ucraina chiede di entrare immediatamente nell'Unione Europea il respingimento è altrettanto immediato, molto solidali sì, ma indisponibili ad accogliere, accogliere nel senso autentico del termine. Accogliere significa mettersi in discussione, ah no, per carità, e aspettate ancora un po', poi scatteranno i meccanismi attraverso i quali, dopo l'entusiasmo dell'accoglienza dei primi profughi, quando questi diventeranno molto più numerosi, immediatamente inizieranno a costruire forme di respingimento attraverso i quali costruire il consenso politico. Questi sono gli scenari, queste sono le modalità nelle quali oggi stiamo vivendo. Il club di ieri sera, a mio parere e nella mia esperienza, è stato ampiamente polifonico della condizione umana, perché attraverso il racconto esperienziale ha manifestato con evidenza le tante sfaccettature della multidimensionalità della sofferenza umana che stiamo vivendo e che ieri sera erano significativamente rappresentate nel contesto comunitario della vita del club. Abbiamo oscillato tra il dolore e la sofferenza fisica che ammutolisce il discorso, rende impossibile comprendere fino in fondo il senso che possa avere il dolore, probabilmente non ha alcun senso, ma il suo orizzonte di senso nella modalità attraverso il quale noi lo accogliamo, come condizione purtroppo spesso inevitabile della vita. Capitano tante condizioni di sofferenza, di necessità di elaborare la perdita. Per quanto tempo noi viviamo nell'illusione dell'eternità e poi scopriamo attraverso la scomparsa delle persone care come la vita sia un fluire costante nel quale ci predisponiamo per un tratto piccolo rispetto alla presenza della vita su questo pianeta. Facciamo molta fatica a vivere nella appartenenza di una vita che scorre per l'eternità rispetto alla quale noi siamo semplicemente dei giardinieri, dei custodi, dei pastori erranti. ecco che allora accadono gli eventi traumatici della malattia che ci ammutorisce ma che può trovare nel contesto di una relazione che non forza il discorso ma accoglie nella dimensione emozionale, affettiva, sentimentale, accoglie l'altro. Senza tanti discorsi rassicuranti ma con la presenza vera, autentica. Ieri sera abbiamo fatto riverberare attraverso il racconto delle persone la dissipazione comportamentale, i disturbi del comportamento che hanno origini culturali, relazionali nelle dinamiche familiari e sociali, non poi rappresentare ciò che accade solo all'interno delle dinamiche familiari, pur essendo molto importante. Alludere alla dimensione sociale e comunitaria non significa deresponsabilizzare il contesto familiare. Abbiamo osservato il silenzio parzialmente paranoico, di chiusura, espressione sintomatica di una società che ha fatto della privacy una forma di idolatria, di chiusura, abbiamo paura che ci rubino l'identità, diventiamo paranoici, siamo costantemente esposti a una matrice culturale paranoica, cresce in maniera esponenziale. L'incidenza è la prevalenza della sintomatologia definita psichiatrica, ma preferisco definirla una sintomatologia del disagio esistenziale, del disagio spirituale, che trova corpo nella multidimensionalità della sofferenza umana, che si esprime attraverso forme di linguaggio che comprendono in sé anche il silenzio e la chiusura. Si teme di essere espiati, osservati. Ieri poi mi è caduto di sentire da persone che conosco, che mi hanno telefonato, di percepire un aumento di tensione, di angoscia. Immediatamente scatta il meccanismo conformista e culturale che cerca di rappresentare questo stato d'animo attraverso la sintomatologia psichiatrica. Forse ho gli attacchi di panico, la frequenza cardiaca cresce, mi sento angosciato. Che non sia la guerra? Sì, forse, questo clima. c'è una paura diffusa. La sola evocazione dell'armamento nucleare giustamente genera paura e angoscia. Ma saremmo pronti a ripristinare il nucleare come fonte energetica senza aver risolto il problema delle scorie, purché ci dimezzino le bollette. E non siamo capaci di cambiare stile di vita meno consumistica, quindi meno bisognosa di energia e allo stesso tempo porre mano al bene comune, non per arricchire qualcuno, ma per far sì che le fonti di energia usate con parsimonia e sobrietà costino meno. E attenzione perché il problema dell'energia rappresenta anche un punto cruciale nella tutela e nella difesa dell'ambiente. Cambiare stile di vita e consumare meno significa avere meno bisogno di depredare la terra. Ecco che allora si erge, si alza il pensiero ecologico, una nuova forma, antica però, nella quale l'uomo prende coscienza di appartenere alla natura e di doverla rispettare. È molto difficile tutto questo, ma è fattibile. E il club ieri sera, nell'accoglienza polifonica di una molteplicità di espressioni esistenziali, fino a quel desiderio culturalmente indotto di staccare la spina. Di fronte al perpetuarsi di ricadute, disturbi del comportamento, si immagina e si è fatto immaginare attraverso un'abile propaganda, marketing dei sistemi di cura, si è fatto immaginare di poter portare in riparazione, in un luogo separato, in una officina, la persona interessata. Staccare la spina significa anche sottrarsi alla dinamica del club, disconoscere il carattere sistemico della cura legata all'ecologia sociale antropospirituale. Se ci fosse anche una remota necessità che la persona si prenda del tempo, separata dal contesto di vita e di lavoro, nel quale si è trovato destinato a vivere la propria esistenza. Anche se ci fosse questa necessità estrema, ma francamente faccio fatica a vederla. È inevitabile che io applichi lo spirito critico. Portate pazienza, ma quando sento parlare di disintossicazione, lo trovo una rappresentazione fuorviante di ciò che accade realmente in un organismo. Sì, per carità, ci può stare. Periodo di osservazione e aggiustamento di una terapia farmacologica. Portarci. Ma per favore, non parlatemi di disintossicazione in clinica. Vogliamo posti letto in ospedale per disintossicare. Non è così che funziona. L'organismo basta che si astenga e si disintossicherà dalla presenza di sostanze tossiche. L'alcol nel giro di pochi giorni sparisce dall'organismo e l'organismo progressivamente si adatterà, ma cambiando stili di vita, comportamenti, prospettive, modi di vivere, relazioni. E questo va fatto nella vita reale delle persone. No, ma si cerca il miracolo. Si cerca l'officina nella quale riparare la persona rotta. L'illusione meccanicistica, la visione positivistica dell'esistenza, l'idea che l'essere umano altro non sia se non una macchina nella quale è anche possibile cambiare i pezzi. Sì, questo è possibile, i trapianti ci sono, ma per quanto riguarda la sofferenza esistenziale non ci sono trapianti, non ci sono officine di riparazione, non c'è un distanziamento sociale, un isolamento sociale che possa garantire. Può accadere naturalmente che in un periodo di consapevole volontario distanziamento dalle dinamiche particolarmente perturbanti, la persona trovi modo di riflettere, meditare, ma lo può fare anche in un erbo. Ebbene, la bellezza del club è che può accogliere anche queste contraddizioni. L'importante è naturalmente che ci si parli con pienezza, ricordando che non si deve mai staccare la spina, pertanto anche quando la persona si trova a vivere una condizione di contenimento residenziale, può essere la comunità terapeutica, la clinica nella quale ci si illude, di adempiere un obbligo relativo alle necessità dello stato di intossicazione, e quindi luogo tecnicamente deputato alla disintossicazione. Trovo da un punto di vista pubblicitario ovviamente efficacissimo, ma sul piano della realtà una sciocchezza. Ebbene, nonostante questo, e ne comprendo le matrici culturali, non lo giustifico, ma lo comprendo. Ecco, l'invito è comunque a perseverare, sentirsi in relazione, non con la spina staccata, perché il club è una palestra straordinaria nella quale ognuno di noi affronta le proprie contraddizioni. E penso che l'incontro di ieri sera ogni tanto accade, è stato particolarmente ricco e ha mostrato con evidenza che ormai il club non è più solo quel luogo nel quale ci si prende cura dell'alcolismo, ma rappresenta un punto di riferimento comunitario, nel quale è anche attraverso l'educazione ecologica continua, abbiamo chiamata scuola primaria, ma è l'educazione ecologica continua nella quale le persone vanno a scuola, scuola di vita, da condividere insieme, vivono in momenti di approfondimento seminariale, corsi monotematici, si sensibilizzano, diventano coprotagonisti di un processo evolutivo. Il club rappresenta una svolta significativa, una sorta di Valle Giulia del 68 ma senza cadere nella trappola nella quale furono condotti, fumo condotti. Sto parlando della mia generazione di quella che mi ha preceduto immediatamente, dentro a una evoluzione che ha accolto, senza saperlo, delle istanze individualiste ed egocentriche, che ha generato l'attuale condizione paranoica dell'esistenza. Siamo stati cresciuti ed educati alla dimensione egocentrica, alla competizione, alla guerra di tutti contro tutti, non quella formale che stiamo vivendo oggi in Ucraina, ma quella guerra che è nel cuore delle persone, che è stata coltivata sulla base del principio della competizione, dell'arrivismo, del carrierismo, della centralità del denaro. Ecco che oggi, primo marzo 2022, mi riporta a decenni fa, primo marzo 1968, Valle Giulia e alla bella canzone di Paolo Pietrangeli, il quale affermava, in una rimembranza, il primo marzo si me lo rammento, saremmo stati 1500 e caricava giù la polizia, gli studenti la cacciavano via, e non la scuola dei padroni, e via il governo, le elezioni. Sì, slogan, indubbiamente, ma quelle frasi ne ho, ricordate solo alcune, ci riportano una dimensione passionale, quindi affrontiamo oggi con spirito nuovo, ma con passione antica, la passione che riguarda la dimensione dell'amore, quella passione che sposta le montagne, e si fa contemporaneamente custode della natura, quella passione che ci emenda profondamente dentro, ci fa essere protesi verso la dimensione della gioia, del godimento della vita. amicizia, oggi troppo rattrapita, atrofizzata, dentro a dinamiche tristi, senza piacere, anedoniche, senza passione, la passione dell'amore, quella passione che Udolin ha introdotto come principio fondativo della vita del club, amore, solidarietà, amicizia, passione amorosa e erotica, che riguarda qualsiasi età, quella che accende i cuori, le menti, le sgombra, anche nei momenti di difficoltà. non si ama solo quando le acque sono quiete e la sorte sembra favorevole, si ama sempre anche nelle tempeste, nell'essere in mare aperto, con venti travolgenti, ci si può rassicurare vivere con coraggio l'attraversata, se si sa amare profondamente dal profondo dell'animo e si vive intensamente la dimensione passionale dell'amore e allo stesso tempo si continua a coltivare con coraggio, perseveranza, disponibilità e generosità la dimensione dell'amore che chiamiamo amicizia. E poi c'è l'altro elemento che è diventato sempre più raro, la dimensione della convivialità, della gape, della capacità di condividere il nutrimento. Tutte cose che anche Pier Lorenzo ieri sera è presente al club insieme a Santina dal 2010 e anche i suoi figli, anche se non fisicamente presenti al club, hanno rappresentato punti di riferimento importanti nella vita del club, hanno contribuito da un punto di vista dell'arte, pittorica, culinaria. Anche la regia della radio riconosce a uno dei figli di Santina, Andrea, un perseverante compito di costruzione di quella trasmissione raro, questa è la vita del club. E questo è il sistema di cura, anche quando si soffermasse semplicemente sul prendersi cura della singola persona, nelle forme non tradizionali ma innovative di una psicoterapia che si fa autentica cura dell'anima, è una condivisione esperienziale tra persone che si dispongono ad aprirsi autenticamente alla condivisione della vita sociale e alla vita comunitaria. Buona giornata a tutti.